siamo alla ricerca di francesco bertini appuntato scelto da dio dovrebbe essere qua vediamo la sua possente auto siamo a 20 metri siamo a 15 metri veramente epica questa macchina buonasera aspettava qualcuno ti frullo dal finestrino eh ti frullo dal finestrino ti dico che cazzo fai con sempre la camera? spegnila